Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi pomeriggio, celebrazioni del Corpus Domini nelle basiliche di San Giovanni, Laterano e Santa Maria Maggiore. È prevista anche una processione su via Merulana. Tra le 17.30 e le 20.00 ci saranno modifiche per 16 linee tra bus e tram. I dettagli su romamobilita.it. Le altre notizie alla rustica festa patronale e chiusure in Via Delia. C'è una deviazione per le linee di bus 447 e 543. Manifestazione socioculturale in via di Torsapienza fino alle 22.00, strada chiusa tra Piazza De Cupis e via Ceccioni e 4 linee di bus deviate.